salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto un volo doppio e soprattutto doppio di due droni davvero particolari e soprattutto completamente diversi uno dall'altro uno è lui il dji fpv l'altro è lui l'avsan zino mini pro quindi il cinematic video che andrete a vedere sarà un cinematic video misto un po di riprese fatte con il dji fpv e un po di riprese fatte con l'avsan zino mini pro quindi questa combo stranissima questa coppia particolare di droni che voleranno oggi qui sul lago di como spondalecco e tutto questo per avere anche un'idea delle diversità video che realizzano questi due droni e di come queste due tipologie di droni possano diciamo unirsi e creare qualcosa di veramente interessante appunto unendo le immagini di uno e dell'altro quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo con dji fpv e avsan zino mini pro decolliamo decolliamo ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti